Siete il cuore del saper fare italiano, siete i maestri ma siete soprattutto i custodi di antiche arti che io credo che possano essere la chiave per lo sviluppo moderno. E questo è l'artigianato, che è un artigianato di grande qualità, di grande capacità, di grande esperienza e deve sapere essere anche di grande sviluppo e di grande competitività perché il made in Italy, i prodotti artigianali di tutti i tipi, i manufatturieri di ogni genere sono l'eccellenza del nostro paese e la nostra possibilità di crescere e di benessere per tanti giovani che hanno voglia di avvicinarsi a questo mondo.